E ok 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 ci siamo bentornati in questo nuovo video bentornati su Afterside Crypto io sono Emiliano e anche questa sera andiamo insieme a valutare il mercato di Bitcoin, dell'Alcoin, quello che è quel mondo delle criptovalute, fire, fuoco, abbiamo visto un'ottima ottima reazione dell'Alcoin, una dominance in continua correzione ma dobbiamo approfondire bene il tutto, prima di partire come sempre vi invito a mettere un bel mi piace sotto questi contenuti, mi aiutate davvero tanto, mi fate capire che vi piacciono, che vi possono essere utili e quindi mi invogliate a continuare a fornirveli con continuità, è un lavoro bello tosto ve lo assicuro quindi è il vostro modo per farmelo capire, in più iscrivetevi al canale con il clic sulla campanellina per rimanere sempre aggiornati, sono contenuti time sensitive, il modo per arrivare a voi velocemente lo sapete qua il tempismo è tutto, ci siete in questo settore da qualche settimana, lo avrete già capito, basta chiacchiere partiamo, partiamo perché Bitcoin cosa fa? Sta continuando in una fase di lateralizzazione fondamentalmente forse anche ribassista se vogliamo proprio azzardarla ma niente di particolare, potremo tracciare questa trendline che ci sta facendo diciamo da resistenza in questo momento però effettivamente quello che a me dà come sintomo è semplicemente una fase, ok? Una fase di accumulazione a mio avviso, non vedo particolare debolezza di mercato perché? Perché tantissime Alcoin stanno facendo dei Vshape recovery e adesso andremo a vederle ne avevamo parlato anche ieri dei Vshape potenziali che si stavano per avverare, si sono avverati in questo momento, questo non vuol dire che ora dovremo andare chissà dove ma fa capire che c'è reazione di domanda, c'è reazione di domanda anche su Alcoin, su alcune Alcoin abbiamo visto veramente FOMO e pressione in acquisto e questo mi fa pensare molto insomma a quello che è poi effettivamente lo scenario di mercato in cui stiamo andando incontro. quindi per parlare di Bitcoin e poi passiamo alle alze non è successo nulla di particolare se non questa fase di lateralizzazione che continua, lo vedete molto bene, con i due range che fanno da appunto supporto e resistenza, resistenza 57.000 circa e supporto in questo momento che siamo andati a toccare in questa notte 52.500 ma con una shadow ma che comunque ci mantengono all'interno di questo range. Quando Bitcoin fa questa cosa qua siamo abituati a vederle Alcoin prendere sopravvento perché? Perché fondamentalmente siamo in un bull market ok? Siamo in una fase di espansione del mercato ok? Attenzione però come dico sempre prima che appunto cadiamo in frontendimenti, non sono consigli finanziari, non fate quello che vi dico, io vi dico la mia idea, può essere giusta, può essere sbagliata ok? Solo il mercato può dirci realmente dove andiamo. Noi qui in questo spazio faccio delle analisi, faccio appunto cerco di interpretare il mercato, di portarvi la mia visione quindi mi raccomando non fate quello che vi dico ma pensate con la vostra testa. Detto ciò cosa sta succedendo qui? Stiamo semplicemente andando in lateralizzazione che favorisce Alcoin e da cosa lo capiamo? Lo capiamo da un downtrend della dominance che continua, inesorabile. Abbiamo raggiunto 50.55, so che su CoinMarketCap dà dei valori un po' diversi però io faccio riferimento a un valore che è quello di TradingView ma il concetto è sempre lo stesso. A noi più che il valore ci interessa capire che effettivamente siamo ora a contatto con questo, con questo qui, vediamo se si vede, con questo lo risalente a settembre 2018. Perso questo e perso questo livello qui che diventa fondamentale perché vedete dove abbiamo trovato supporto molto spesso? In queste quattro zone qua, qui a maggio, qui. Tolti quelli ragazzi non c'è granché, si scende alla grande e quindi la dominance potrebbe trovare il prossimo punto di contatto circa a, adesso non esageriamo, a 40 ma potremmo tranquillamente continuare il downtrend. Non è una sorpresa, non è assolutamente una sorpresa tutto ciò perché? Perché lo vedete molto bene che è da giorni, settimane ormai che stiamo continuando a correggere giorno dopo giorno, non abbiamo nessuna ripresa della dominance. Quindi quando appunto leggo mi viene chiesto anche in privato ma è finita dal season, quando ripartirà dal season, ma siamo in piena al season. Questa è un al season, non c'è alcun recupero di dominance e la dominance che scende, a mio avviso, ma è la mia idea, è sintomo di un mercato bullish, ok? Nel mercato bullish non significa per forza andare to the moon e senza correzioni, ok? Ma vuol dire scaricare, accumulare, scaricare, accumulare. Quindi è una fase comunque, ok? Diversificata di action, non è per forza moon senza mai tornare indietro. Il mercato sui time frame superiori è bullish e lo vediamo da Ethereum. Ethereum ha completato un v-shape recovery pazzesco, pazzesco. Questo è il v-shape recovery da manuale, dove andate a settare pure l'all time high. Lo vedevamo in questa candela qui, engulfing bullish, che ha recuperato molto bene, cambio dollaro, ovviamente stiamo analizzando quello. Dopodiché continuazione in doji e continuazione con supporto sulla 12 daily, ok? Quindi Ethereum molto bene, molto carico. Lo vediamo anche su, vabbè adesso DOT lo analizziamo dopo perché voglio fare un approfondimento. Se vi va mettetemelo qui sotto, domani mattina vorrei fare un morning with parachains, ok? Perché notizia di oggi molto fresca, Kraken andrà a supportare le auction di Kusama, ok? Quindi tutti i progetti presenti sulle parachains che accederanno a fare degli, a richiedere, appunto a partecipare alle auction, alle aste, potranno essere acquistati su Kusama, loccando i vostri Kusama. Se vi va l'idea che vi spieghi un attimo come funziona, vi invito a scrivermelo nei commenti, così in caso preparo un video per domani mattina dedicato, visto che le cose sono fresche. Vi lascio anche il mio referral link di Kraken per chi non fosse iscritto per accedere con gli sconti ovviamente all'acquisto di token su Kraken, che è un ottimo exchange che vi consiglio perché è uno dei più storici e uno dei più, dei più importanti. Vediamo anche la reazione comunque di Kusama che è riuscito un attimino a tirarsi via da questo livello di prezzo, però attenzione perché Kusama, nome che comunque è andato in V-shape e con queste news potrebbe performare bene. Not financial advice, non consigli finanziari, ma attenzione perché queste sono notizie molto importanti, molto importanti. Da notare anche Band Protocol che oggi fa un'ottima leg up, fa un più 20% nel momento in cui sto registrando, quindi molto bene pure Band che aveva subito uno storno importante, ma effettivamente è stato riacquistato abbastanza bene, abbastanza velocemente direi perché alla fine niente di drammatico e ora vediamo di riposizionarci con gli occhi puntati al suo all-time high a 23 dollari, quindi molto bene anche lui, ma sono tante le coin, mi avete chiesto anche Bake. Bake fondamentalmente lagga un po' di più, però Bake attenzione perché è sempre un progetto ottimo di Binance Smart Chain, Binance Smart Chain che ovviamente non serve che vi spiega io quanto sta outperformando il mercato, quanto sta andando bene, quanto sta aiutando la DeFi in questo momento in cui Ethereum ancora ha delle difficoltà, soprattutto per i pesci piccoli nella movimentazione di capitale perché effettivamente servono davvero tante fee, quindi sta aiutando tanto anche i retail e attenzione perché è tanto legata anche al discorso NFT che tornano sempre in voga, quindi attenzione perché anche lì possiamo andare a fare molto molto bene. Un appunto anche su Solana perché Solana sta continuando la sua cavalcata senza fine, ottimo progetto, secondo me è sempre valutato positivamente, però attenzione perché ora siamo davvero belli carichi, oggi stiamo mettendo un altro 20%, attenzione alle correzioni anche se ovviamente la struttura è direi super sana, quindi non abbiamo particolari problemi in questa fase, ok? Sicuramente il progetto è valido e comunque i grafici danno ragione, quindi complimenti a chi è esposto su Solana. Non so neanche cosa farvi vedere esattamente, ma non perché non voglio farvi vedere delle alz, ma perché effettivamente mi piace soffermarmi di più su quello che è il mercato generale, ok? Vedete come il sentiment cambia, ok? Il sentiment cambia, e cos'è che è importante in queste fasi? È importante fare zoom out e capire dove vi trovate senza farvi dei film, perché la dominance è uno degli indicatori che storicamente ragazzi, ve lo dico, storicamente è l'indicatore più importante che ha fatto sempre capire quando c'è stata paura nel mercato e quando non ci sono stati shake off. Perché? Perché se effettivamente ragazzi i soldi escono dal settore, ricordatevi che i soldi prima di tutto, e questo rimarrà penso finché non avremo una nuova coin al posto di bitcoin, che la vedo difficile, ma ci sarà una nuova coin dominante del mercato, fino a che i soldi rimarranno all'interno delle alz e non scapperanno dalle alz, vorrà dire che avremo l'infa vitale. L'infa vitale. E la dominance che corregge, che quindi continua a essere testimonianza del fatto che comunque i soldi sono nelle alze e continuano a crescere, non fa altro che creare confidenza sul mercato. Poi è ovvio, gli shake off ci sono, ci saranno sempre, ma l'importante è capire su cosa si investe, su cosa si espone, perché è quello che vi dà poi la linea guida e vi fa capire effettivamente su che progetto siete e sulla fattibilità futura. Quindi mi raccomando ragazzi, non fatevi buttare fuori dal treno, non sono consigli finanziari, ma cercate di comprendere. Poi attenzione, questo non vuol dire non prendere take profit, take profit va preso sempre, ok? Però contesta pensando a quello che si fa, senza farsi prendere la fome della FAD, perché altrimenti si rischia di perdere magari un treno, rientrare più alti, poi andare in panico quando scende, quindi fare l'effetto contrario. Io ragazzi mi fermo perché sto andando oltre alla grande e mi sto dilungando anche troppo. Vi invito come sempre lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale, clicca sulla campanellina, fatemi sapere appunto per le parachain che è interessante quello che sta facendo Kraken, vi lascio sotto in descrizione il link per Kraken, se vi iscrivete col mio ref ovviamente avete un piccolo sconto e a me mi aiutate con una piccolissima donazione e noi ci vediamo domani mattina. Ciao ragazzi!